Con il sostegno della Fondazione Carispac, è in corso di ultimazione l'intervento di restauro della volta della sagrestia della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Piazza Duomo, all'Aquila, conosciuta anche come Chiesa delle Anime Sante. La Chiesa è il simbolo del sisma dell'Aquila, poiché la mattina del 6 aprile, dopo la distruttiva scossa della notte, in diretta mondiale la sua cupola crollò. Questo intervento completa tutto il restauro della Chiesa, alla cui inaugurazione nel 2018 partecipò il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si sa che la Chiesa è stata restaurata con fondi francesi e mancava questo piccolo particolare. Perché l'abbiamo voluto fare così su richiesta della Curia e di Don Pinton in questo periodo? Anche perché si pensa che venendo il Papa si possa far vedere questa grande opera al resto del mondo, perché se viene il Papa poi sarà visto dal mondo. Il restauro sta venendo avanti magnificamente, bello. Abbiamo fatto un primo intervento economico di 30.000 euro e poi se dovesse servire siamo pronti a intervenire oltre. Penso che sia un bel regalo alla città. Il completamento della sagrestia terminerà per agosto, mese in cui è prevista la visita all'Aquila di Papa Francesco. In quel periodo sarà allestita anche una mostra che ricorderà le vittime del terremoto attraverso delle opere d'arte, nella speranza di portare il Papa stesso a visitarla. Torna totalmente a disposizione della comunità. Abbiamo lo spazio dedicato al culto, abbiamo lo spazio dedicato alla memoria, alla preghiera delle vittime del terremoto. Avremo questo spazio che era la sagrestia monumentale, utilizzata anche come luogo dalla confraternità del soffragio per fare le riunioni, che recuperata oggi permetterà di avere uno spazio anche per creare mostre temporanee di opere d'arte e comunque un luogo dove esprimere e dare opportunità di cultura. Diciamo che io seguo sempre i restauri delle istituzioni che mi sono affidate anche perché avendo una scuola di alta formazione in beni culturali che è collegata con il ministro dei beni culturali, non solo lo seguirò il restauro ma anche alcuni studenti della nostra scuola di alta formazione parteciperanno in modo fattivo per vedere le modalità di restauro e anche per comprendere le dinamiche con cui in dimensione antropologica bisogna pensare un restauro di un bene culturale ecclesiastico.